L'Associazione Ultra Blu, con il sostegno della Regione Lazio, avvia il progetto Immagina, un laboratorio di arte e di cultura all'interno dei musei e dei luoghi storici di Roma. Saranno seguiti da me, Tristano Monaca e Andrea Calcagno. Questo è il Museo Etrusco di Villa Giulia. Andremo a visitare anche altri musei romani, la Galleria Nazionale di Arte Moderna, il Museo di Palazzo Massimo. Ci affaceremo anche a bellezze a cielo aperto tra l'Orto Botanico di Roma e la visita ai Fori Imperiali. L'iscrizione è completamente gratuita, così come sono gratuiti i materiali che forniremo. Avrete tutte le informazioni dettagliate sul sito di Ultra Blu, dove è possibile anche effettuare l'iscrizione attraverso un modulo. Al termine dei laboratori raccolleremo i vostri elaborati all'interno di un libro, di una pubblicazione. Il laboratorio non è di stampo accademico. Verranno guidati tutti i partecipanti a scoprire ognuno qual è il proprio modo per arrivare a un risultato creativo attraverso l'osservazione e la trasformazione degli elementi. Grazie a tutti!